Detto questo, ovviamente il mio intervento è quanto mai frammentario. Non può non essere frammentario, mi rendo conto che ci sono soltanto tre minuti a disposizione. Io credo che sia assolutamente e completamente racconto il corso, ma ora non ha un nome molto ridotto di edifico nei mali di terri reposferre che temo alla mia prespenza con la conluce da scrittura. Mi ho sempre riferito a un'idea punti, di un puntissimo, di un'idea che viene allo a z. Quindi, di nuovo, breve, mia idea legata alla luce. Di qui ogni possibile estensione della dimensione puntiforme mi diventava irrealizzabile e tuttora credo che possa essere considerata tale. In coda a questo mio intervento voglio poi lasciarvi con due citazioni, una da Roland Barthes, un'altra che non ricordo, ma non ve le leggo nessuna delle due. E vi saluto con salta e mentale. Grazie a tutti.